Nell'ambito delle iniziative del giorno del ricordo 2017 e del settantedimo anniversario del Trattato di Pace, è stato inoltre presentato al Polo del Novecento di Torino il DVD La Città Vuota, Pola 1947. Il video ripercorre proprio l'esodo Giuliano d'Almata, quando tra dicembre 1946 e il marzo 1947, circa 28.000 dei 32.000 abitanti di Pola abbandonarono la città, dirigendosi lungo le sponde italiane del mare Adriatico, alla notizia dell'imminente firma del Trattato di Pace di Parigi, che oltre a Pola avrebbe assegnato alla Jugoslavia di Tito anche Fiume, Zara e quasi tutta la restante parte dell'Istria. L'iniziativa è stata promossa con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Per il giorno del ricordo, un film che ripercorre le vicende di Pola. Sì, è un bel film che ripercorre purtroppo uno dei momenti più tristi e più anche una tragedia vera e propria per gli abitanti di Pola che la vissero e a cui purtroppo, nonostante tutti i giorni del ricordo e della memoria, ormai si ripete in tante parti del mondo e quello che facciamo questa sera vuole essere anche un monito effettivo e speriamo che serva perché le cose che vedremo così dolenti, così tragiche, così commoventi non debbano più succedere.